Un bel ritrovato a tutti dalla redazione di Telecare, in modo particolare dal nostro studio europeo degli aeronauti. La nostra rubrica che vuole essere un viaggio periodico nel gran male dell'Unione Europea alla scoperta dei suoi protagonisti e dei suoi tesori. Cominciamo subito questa settimana con il nostro notiziario parlando di agenda digitale. Estendere i benefici di internet a tutti i cittadini è questo l'obiettivo dell'ambiziosa agenda europea del digitale appena presentata dalla Commissione Europea per i prossimi anni. L'agenda indica sette aree prioritarie d'azione, mercato unico del digitale, interoperabilità, maggiore fiducia in internet, accesso molto più veloce alla rete, investimenti più consistenti anche sulla ricerca, alfabetizzazione digitale, uso di tecnologie su sfide come cambiamento climatico e infine invecchiamento demografico. L'agenda europea del digitale è la prima delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 per una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva e prevede 100 interventi, dei quali 31 di carattere proprio legislativo. Oltre alla metà dei cittadini europei, quindi stiamo parlando di ben 250 milioni di persone, si collega ogni giorno ad internet, ma un altro 30% però per esempio non l'ha mai fatto. Tutti, vecchi e giovani, a prescindere dall'estrazione sociale, hanno diritto ad accedere alla conoscenza e alle competenze necessarie a far parte dell'era digitale, dato che ormai è sempre in maggior misura il commercio e i servizi pubblici, quelli sociali e sanitari, l'istruzione e la vita politica sono reperibili in rete. Anche le piccole e medie imprese quindi saranno incentivate all'utilizzo delle telecomunicazioni, soprattutto quelle digitali. Finanziamenti regionali ed europei potranno essere utilizzati anche per migliorare le condizioni abitative delle comunità emarginate, come ad esempio quella dei Rom. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione concordata previamente da tutti gli Stati dell'Unione europea. I Rom in Europa sono circa 10 o 12 milioni e spesso vivono in condizioni di estrema povertà e segregazione, una condizione che si sta aggravando peraltro negli ultimi anni. Ebbene la legislazione sui fondi strutturali dell'Unione europea in precedenza era estremamente restrittiva sugli interventi abitativi e limitata peraltro solo a 12 nuovi Stati membri dell'Unione europea, quelli dell'Europa orientale. Le sole eccezioni riguardavano misure di efficienza energetica e energia rinnovabile per il rinnovo di, per esempio, condomini esistenti nelle aree urbane. Resta il fatto però che le popolazioni Rom vivono per lo più segregate in zone rurali, in case unifamiliari. Ebbene quindi nuove misure, nuove misure estenderanno il campo di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale e gli interventi abitativi a favore delle comunità immarginate in tutti gli Stati dell'Unione europea Italia, compresa soprattutto in zone quindi rurali e non solo cittadine. Aiuti di Stato. L'ultimo quadro di valutazione mostra un utilizzo ridotto delle misure anticrisi da parte delle banche. L'utilizzo delle misure statali di emergenza da parte degli istituti finanziari è quindi in declino, così almeno sembrerebbe. Questo primo incoraggiante segno di un graduale ritorno, quindi a condizioni stabili di mercato nel settore bancario, emerge dal quadro di valutazione sugli aiuti di Stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Commissione europea. Complessivamente la Commissione ha approvato le misure anticrisi presentate dagli Stati membri fino ad un volume massimo di 4 mila miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia in modo particolare, quella che interessa a noi, cioè la Commissione ha autorizzato un regime volto a remunerare le imprese che forniscono servizi di interrompibilità istantanea. Stiamo parlando, cioè per capirci meglio, di disponibilità a subire distacchi di corrente per evitare blackout generalizzati, soprattutto nelle isole maggiori, quindi Sicilia e Sardegna. La Commissione inoltre ha concluso che il regime limitato a tre anni non costituisce un aiuto di Stato in quanto remunera al prezzo di mercato un servizio necessario al fino di garantire la continuità delle forniture elettriche nelle isole. E' una forte maggioranza di cittadini dell'Unione Europea favorevole a misure di controllo più rigorose contro il tabacco. Questo emerge da un'inchiesta di Eurobarometro pubblicata in occasione della giornata mondiale senza tabacco che è avvenuta lunedì. L'indagine indica anche però che quasi un cittadino europeo su tre continua a fumare nonostante il tabacco uccida prima o poi la metà dei suoi utilizzatori. La Commissione europea avvia fra breve quindi una consultazione aperta in vista di una revisione totale della direttiva sui prodotti del tabacco che risale al 2001, quindi insomma già dieci anni. Il tabacco è il maggior fattore monocausale di decessi evitabili nell'Unione Europea. E' responsabile cioè di circa 650.000 decessi prematuri o l'obiettivo dichiarato quindi per l'Europa è quello di avere un'Europa senza fumo entro 2012, sempre sperando ovviamente che non si avverino nel frattempo le profezie maya sulla fine del mondo. Niente sigarette negli ambienti pubblici chiusi, sul posto di lavoro, sui trasporti pubblici, né in qualsiasi posto dove ci siano dei bambini. L'adozione e l'attuazione di leggi su un ambiente libero del fumo rimangono di competenza dei singoli stati e l'Italia come si sa dispone già di norme all'avanguardia rispetto al resto dell'Unione Europea. Cosa ne pensano in modo particolare i cittadini? L'indagine eurobarometro indica che i cittadini europei sono a favore di misure di controllo ancora più rigorose contro il tabacco. Dal tabacco alla burocrazia, meno burocrazia e più attenzione ai risultati, modificate le regole sull'accesso dei fondi europei. La Commissione Europea ha adottato una serie di modifiche per semplificare l'accesso ai fondi europei e ridurre i costi di burocrazia sempre piuttosto alti, purtroppo anche e soprattutto in Europa. Nuove regole più spazio anche per i fondi pubblici e privati di investimento e le modifiche contribuiranno alla realizzazione della nuova generazione di programmi europei post-2013. Tra le modifiche, l'inanzamento del tetto di questi finanziamenti da 25 a 50 mila euro e sarà anche più semplice per i beneficiari dei finanziamenti usare il loro prestito a garanzia di partner. Altra brevissima notizia, secondo il sesto rapporto pubblicato dalla Commissione Europea, durante gli ultimi 18 mesi circa 280 barriere commerciali sono state create dai maggiori partner europei per fronteggiare la crisi finanziaria. La Commissione invita quindi i partner a rimuovere queste misure protezionistiche al fine di dare nuovo impulso alla ripresa del commercio, quindi ancora prudenza nell'economia europea. Parliamo adesso di macchine perché entrano in vigore con l'inizio di giugno, quindi davvero giorni, le nuove norme di concorrenza per gli accordi tra i produttori di autoveicoli e i loro rivenditori, riparatori e anche distributori autorizzati di pezzi di ricambio. Si incrementa quindi in questo modo la concorrenza sul mercato della riparazione e della manutenzione, migliorando l'accesso alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni delle automobili e agevolando quindi il ricorso a pezzi di ricambio alternativi. Saranno anche combattute le pratiche abusive dei produttori per quanto riguarda le agenzie. Il servizio post vendita sarà effettuato soltanto dalle officine autorizzate, però i produttori di automobili non potranno più subordinare l'applicazione della garanzia al fatto che il cambio dell'olio o altri servizi automobilistici siano effettuati esclusivamente nelle officine autorizzate. E niente più pesca tradizionale nelle acque dell'Adriatico, i pescatori del Veneziano. Quindi siamo arrivati un po' a nord-est e alle declinazioni delle notizie europee nel nostro territorio. Quindi i pescatori del Veneziano, accompagnati dai sindaci di alcune città costiere, dalle cooperative di riferimento, hanno promosso nei giorni scorsi a Venezia una colorita protesta contro le nuove regole europee che vietano la pesca entro il miglio e mezzo dalla costa, una normativa che rischia di mettere in ginocchio un intero settore. Ce ne parla Cristina Pagnè, sentiamo. Cara frittura, addio. Moscardini, Tellina e Calamaretti, ai pesci tipici dei piatti veneti dovremo forse rinunciare. Sì, perché dal primo giugno è scattata la nuova normativa europea che per tutelare la biodiversità marina vieta la pesca con le reti a meno di un miglio e mezzo dalla costa e impone l'uso di maglie più larghe. Ecco perché oltre 150 imbarcazioni da Chioggia, Pelestrina e Caorle hanno invaso la laguna davanti alla Capitaneria di Porto a Venezia. La nostra è una piccola pesca, una pesca sulla quale si basa una parte importante dell'economia della nostra città ed è anche un elemento importante per offerta turistica poi. Perché abbiamo diritto a avere un regolamento che sia adeguato alla nostra situazione di pesca. È evidente che negli ultimi anni siamo una persona di pesca piuttosto importante e rispetto alla quale va fatta un'azione di gestione. Noi siamo disponibili alla gestione, però cambiare le regole to court mi pare sia veramente impossibile. In realtà la normativa era stata approvata già nel 2006 e tutti i paesi, tranne l'Italia, si sono adeguati per tempo. Qui invece, dicono i pescatori, né il governo con l'allora ministro Luca Zaia né la regione hanno fatto nulla. Eppure in gioco c'è il lavoro di almeno 900 persone e moltissime del litorale veneziano, dove il fatturato della pesca si aggira intorno agli 80 milioni di euro l'anno. Un quinto del fatturato di tutta la pesca italiana. Voi cosa pescate? Noi facciamo la pesca delle seppie, caramaletto, moscardino. Uscite tutti i giorni? Usciamo tutti i giorni. Qualche volta facciamo anche qualche notte. Purtroppo i soldi non ci regali nessuno, bisogna fare ore per guadagnare tutto qua. Però vi piace? Purtroppo è una cosa che va da famiglia in famiglia e ci piace. Non vogliamo assolutamente cambiare il tipo di lavoro. Comunque il problema è dei pescatori ma anche di chi mangia il pesce, no? Perché non lo mangerà più. È normale, è normale. Il pesce poi viene a mancare, specialmente le seppioline, i folpeti. Si prenderanno da fuori? Si prenderà, vengono già da fuori di suo. I pescatori oggi hanno ricevuto il sostegno dell'assessore alla pesca Franco Manzato, che ha incontrato una delegazione a Palazzo Balbi, ma a muoversi adesso deve essere il governatore del Veneto, Zaia, e il nuovo ministro, Giancarlo Galan. E insomma ancora proteste per questa normativa comunitaria. Parliamo d'altro, parliamo di crisi, perché in ogni crisi c'è un'opportunità. Ecco quindi che anche il difficile periodo economico che l'Europa sta vivendo potrebbe trasformarsi anche in qualcosa di diverso. È l'auspicio espresso da Roberto Ciambetti, assessore al bilancio della Regione Veneto, intervenuto a Bruxelles al convegno promosso da Un'Uncamera del Veneto e dalla Camera dell'Economia della Croazia sulla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché dalla necessità di marchi di tutela negli anni della globalizzazione sotto la pressione della crisi finanziaria. L'opportunità che oggi si presenta in modo particolare ai governi locali sta nel proteggere la nostra moneta e i nostri prodotti, ma anche nel difendere la nostra identità e la nostra cultura. Secondo l'assessore infatti, pil e moneta non sono i soli indicatori del benessere o della civiltà di un popolo. La qualità del vivere sta anche nella propria libertà, nella sicurezza, nella lotta allo sfruttamento minorile e nella difesa dell'ambiente. Sta soprattutto, e questo è stato il punto centrale dell'intervento dell'assessore a Bruxelles, nel rifiutare quel dumping sociale, quella concorrenza sleale extraeuropea che rischia davvero di travolgere l'economia. E anche per oggi è tutto. Io vi ricordo che altre coordinate per la navigazione in acque europee ci saranno la prossima settimana nell'ultima puntata di Aeronauti. Grazie ancora per averci seguito e alla prossima. Grazie a tutti!